Del biodigestore di Pinarolo Po si discuterà anche nel prossimo Consiglio Comunale, dove il progetto, molto dibattuto, non è ancora stato affrontato. A chiedere di inserire l'argomento all'ordine del giorno il gruppo di opposizione in Consiglio, molto critico sull'argomento, trattato però negli ultimi mesi durante un'assemblea pubblica e che sarà al centro di una nuova conferenza dei servizi in provincia l'11 novembre. Le richieste di chiarimento riguardano la viabilità connessa all'impianto e l'ampliamento della provinciale 113, il timore di miasmi e cattivi odori per i residenti in zona, il consumo di acqua, lo smaltimento dei reflui e le dimensioni delle vasche di stoccaggio dei rifiuti che dovrebbero alimentare l'impianto che li trasformerà poi in gas metano. Questioni in buona parte già emerse durante le precedenti conferenze dei servizi a cui, come per il tema della viabilità, secondo quanto riferito alla nostra emittente dal sindaco Giuseppe Villani, non sono ancora state date risposte soddisfacenti da parte dell'azienda In questo senso la richiesta del Comune è che gli interventi alla viabilità siano realizzati prima dell'eventuale avvio dell'impianto. Intanto il Comitato, sorto per contrastare il progetto ritenuto rischioso per la vivibilità della zona, ha raccolto oltre 500 firme.